Quando mangiamo un piatto di pasta al pomodoro, mangiamo circa 175 litri di acqua. Da dove viene tutta quest'acqua? Il grano duro viene coltivato prevalentemente in Italia, Francia, Turchia, Grecia, Canada e Stati Uniti. Perché la coltivazione di ai suoi frutti è indispensabile arare, concimare, seminare, diserbare, raccogliere. Tutto questo richiede energia e acqua e produce emissioni e rifiuti. Poi la granella raccolta deve essere trasportata al centro di macinazione. Anche qui si consuma energia e acqua per prepulitura, stoccaggio, pulitura, macinazione, raccolta farina, trasporto. Una volta ottenuta la farina, si può procedere alla produzione della pasta con impasto, gramolatura, raffilatura, essicazione, confezionamento e spedizione. Per questo processo si consuma acqua, energia elettrica, gas metano e si producono rifiuti. Poi, dopo aver prodotto l'imballaggio, la pasta prodotta viene distribuita per raggiungere i supermercati. È solo a questo punto che la pasta è pronta per essere cucinata. Anche la cottura è una fase che impiega energia, cioè quella dei fornelli. E acqua, cioè quella che serve per la cottura. E infine, l'ultimo step della vita di un pacco di pasta è lo smaltimento dell'imballaggio di cartone o di plastica. Il ciclo produttivo di un pacco di pasta richiede un grande impiego di energie e risorse. Si calcola che l'impronta idrica, e quindi il consumo di acqua per un chilogrammo di pasta prodotta e consumata in Italia, è di 1292 litri di acqua. Quindi, il piatto di pasta al pomodoro è fatto da circa 130 litri di acqua impiegata per 100 grammi di pasta e 45 litri per 200 grammi di sugo di pomodoro.